Buon pomeriggio alle donne e agli uomini presenti, rimasti oggi presenti, alla sessione finale di queste tre giornate del forum internazionale promosso dal Comitato Expo dei Popoli qui a Milano, che ha visto la partecipazione, lo ricordiamo ancora, che è arrivato soprattutto soltanto oggi di 180 delegati internazionali, di cui 14 reti globali. Mi presento anch'io, sono Silvia Stilli, sono il direttore di un'ONG che ovviamente si occupa di questi temi, italiana, si chiama ARCS, è l'ONG di una grande associazione, l'ARCI, e sono anche il portavoce di una rappresentanza, la più grande nazionale delle ONG italiane. Il Comitato Expo dei Popoli, già attivo da alcuni anni, si è formalmente costituito nel novembre 2012 e vede l'impegno di circa 50 associazioni italiane. Il percorso che ha portato tante presenze in questi giorni alla fabbrica del vapore dal 3 giugno è stato attivato dalle associazioni e reti aderenti appunto al Comitato dell'Expo dei Popoli in 12 città italiane dal nostro nord al sud negli ultimi mesi ed ha coinvolto più di 30 scuole, alcune amministrazioni locali e una media per città di circa 120 tra produttori locali e portatori di buone pratiche di sovranità alimentare. Tutti questi attori hanno ragionato insieme e si sono confrontati sulla sovranità e lo spreco alimentare, sul diritto al cibo per tutti. Alcuni di questi nostri attori locali italiani sono con noi anche oggi, non solo i delegati, hanno partecipato ai gruppi di lavoro insieme a noi e continueranno il percorso di scrittura e condivisione delle carte di buone pratiche locali. Soprattutto grazie oggi al contributo delle conclusioni che verranno presentate in questa sessione plenaria. Diciamocelo, è stato un forum internazionale vero, partecipato e vivace che ha avuto una risonanza positiva e forte nella città di Milano, ma anche a livello nazionale, sulla carta stampata, nei blog e nei social, stimolando dibattiti oltre quelli che ci sono stati in questa sala, nei cortili, nelle stanze della fabbrica. L'esito di questi tre giorni del forum non si ferma qui. Il cammino continua. Le reti per i diritti globali lo sanno bene. Abbiamo un anno impegnativo, il 2015, in cui la comunità internazionale è chiamata a fare i conti con obiettivi mai raggiunti di cancellazione della fame e di ogni forma di povertà materiale, sociale, culturale. Molte sono e saranno le occasioni per farci sentire, oltre l'Expo. Oltre la nostra risposta all'Expo. Con la presentazione in questa giornata degli esiti del forum, ci impegniamo insieme a mettere al centro del nostro pensiero e della nostra azione quotidiana la sovranità alimentare, l'agroecologia, in opposizione a ogni forma di land grabbing, sfruttamento, limitazione al diritto all'acqua, ai nostri beni comuni. Proponiamo mercati stabili e solidali, basati su produzioni ed economie guidate dalle famiglie e dalle comunità e promuoviamo il consumo critico e consapevole e la lotta a ogni forma di spreco alimentare. Ani e Leni, in Mali, nel 2007, per la prima volta, e ancora nel febbraio scorso, le organizzazioni contadine di comunità, i popoli indigeni, i pescatori, i movimenti senza terra, voi, quindi, reti globali che siate in questa sala, avete ribadito la centralità di questi temi e rilanciato un imperativo che questo forum ha accolto, ha sviluppato e che è l'eredità e la continuità che lasciamo al nostro lavoro da oggi. Ed è, a nome del legale e della continuità da Nieleni a Milano, qui e oggi, che lascio con grande piacere ed emozione la parola Ibrahima Koulibaly, che di Nieleni è stato uno dei maggiori protagonisti animatori, sindacalista condatino, fondatore del coordinamento nazionale delle organizzazioni contadine del Mali, componente del comitato regionale di Roppa, della rete delle organizzazioni contadine e professionali in Africa occidentale. Sarà l'ultima lezione magistrale di questi giorni, in plenaria, di questo forum, sul tema da cui tutto parte, la sovranità alimentare come progetto politico. E poi lascio la conduzione dell'Assemblea al mio collega e compagno di Cammino, Giuseppe De Santis, della Fondazione Acra, un food attivista, un agronomo food attivista che ha contribuito personalmente con la sua associazione, come con le altre 50 realtà che hanno costruito questo comitato, che ha ospitato questo forum, a tenere alto, nel difficile periodo dell'Expo 2015 a Milano, il tema della sovranità alimentare.